Avrebbero utilizzato una scala in legno lasciata dai proprietari di una cappella per scavalcare un muretto nella parte posteriore, quella più facilmente accessibile. In questo modo i gnoti si sarebbero introdotti nel cimitero di Trinitapoli e avrebbero raggiunto e danneggiato la cappella di famiglia del vice sindaco del comune Ufantino, Maria Iannella. E' accaduto la scorsa notte, renderlo noto il sindaco di Trinitapoli Francesco Di Feo a capo di una coalizione di centrodestra a cui partecipano appartenenti a movimenti legati alla società civile, proprio come la sua vice, il medico Maria Iannella. Di Feo definisce l'accaduto un atto intimidatorio e lo collega all'impegno della sua vice per l'affidamento del servizio sul dopo di noi per il quale il comune sta per avviare una gara. Non è la prima volta che qualcuno si introduce nel cimitero, ha spiegato Di Feo, ma negli altri casi era per trafugare vasi, oggetti in ottone, invece questa volta è stata presa di mira solo la cappella della dottoressa Iannella. Il sindaco poi si sofferma sulla tempistica dell'accaduto, il fatto che proprio ieri Iannella abbia pubblicato su Facebook un video col quale promuoveva l'affidamento di quel servizio importantissimo per le persone con disabilità e malattie gravi, che con la morte dei genitori hanno bisogno di essere seguite e curate e che questo sia al centro di una pesante polemica con le opposizioni, ha aggiunto, è una strana coincidenza, speriamo sia fatta chiarezza.